ok perfetto direi assolutamente di cominciare prima di tutto buongiorno benvenuti ben ritrovati a tutti io sono gianluca pucci manager dei 6 engineer del territorio italiano di watchcard e niente sostanzialmente nella giornata di oggi nel webinar di oggi andremo a riapprofondire riaffrontare la tematica sostanzialmente che offre l'opportunità della gestione dei farbox all'interno del nostro watchcard cloud quindi vedremo le possibilità di gestione quindi le metodologie di gestione le novità introdotte di recente e daremo un'occhiata anche a quelle ma quelle future quantomeno diciamo per orientare le implementazioni che verranno visto che c'è già una domanda a riguardo e andremo a collocarle diciamo temporalmente all'interno della nostra linea di roadmap. Due note tecniche prima di prima di cominciare e allora ovviamente il webinar come di consueto è registrato quindi avrete poi modo di vederlo in differita nel nostro canale youtube watchcard italia credo assolutamente entro la giornata di oggi di riuscire tranquillamente ad applaudarlo e secondariamente ci riserviamo la parte finale del webinar per le domande e risposte così che avremo una fruizione sostanziale dei dei contenuti corretta per poi chiaramente e ovviamente dare spazio alle alle domande e ovviamente alle relative risposte allora firebox cloud management la possibilità di inserire di attestare di collocare chi la nostra serie di prodotti della network security quindi i nostri cari firebox da ieri sostanzialmente in tutte le coniugazioni commerciali quindi da ieri previo smentita conferma non è ancora arrivata però tendenzialmente dovrebbe essere tutto confermato da ieri tutte le metodo tutte le licensing quindi a partire dalla standard support basic security e total security possono essere associabili al al watch car cloud dico questo perché preventivamente non era possibile farlo come ben sapete per le standard support ma torneremo sull'argomento per vedere poi le le diversità allora un firebox all'interno del watch car cloud dopo ovviamente essere allocato quindi ripercorriamo velocemente il percorso quindi la registrazione del firebox nell'area riservata determina la presenza del firebox nell'inventory del diciamo dell'account madre quindi dell'account overview ovviamente il riferimento più consono è quello di un account cloud di tipo service provider con la possibilità di creare come vedete dei tenant dei subscriber in gestione quindi nella parte inventory io mi ritroverò sostanzialmente sotto un allocated firebox i vari firebox che non sono stati allocati non sono stati associati ad alcun tenant quindi il cliente specifico non li ha ancora sotto il suo tenant per poter essere per poter essere gestiti e quindi applicare andare ad applicare le varie configurazioni o raccogliere log e reportistica quindi la prima operazione è chiaramente quella di dell'allocazione che prevede sostanzialmente il fatto che io clicchi su un su un firebox e lo vado ovviamente a allocare al tenant sostanzialmente preferito con una never expiration quindi senza determinare expiration oppure determinando una una custom expiration quindi l'allocazione vale per il tempo che ho definito ok se al secondo ovviamente della contrattualizzazione diciamo questo è un dato prettamente un'informazione prettamente che aspetta voi reseller verso il vostro cliente finale quindi quanto tempo allocare il dettaglio chiaramente diciamo se c'è una buon rapporto commerciale il settaggio nevare ovviamente la strada più più opportuna una volta che ho allocato il firebox all'interno del tenant quindi all'interno diciamo del subscriber definito sia dall'opzione di monitoraggio prodotti che dall'opzione di configurazione prodotti ho la possibilità di aggiungere perché non basta allocarlo occorre anche aggiungerlo fra i prodotti gestiti e da qui si apre ovviamente si aprono le possibilità nel momento in cui vado ad aggiungere un firebox quindi come vedete qua ci trovo i firebox disponibili nel mio tenant allocati nel mio tenant ma non ancora aggiunti quindi nel momento in cui vado ad aggiungerlo mi si presenta la doppia opportunità quindi la doppia opportunità prevede il fatto che io posta che il firebox abbia con il cloud due tipi di relazione la prima è local management con local management detto in soldoni il firewall rimane gestibile configurabile con i mezzi che ben conoscete locali quindi web user interface e vsm nelle sue varie forme e si attesta al watch car cloud esclusivamente per log report istica e manutenzione andiamo a vedere che cosa intendiamo in questi termini prendiamo per esempio questo firebox che è in gestione nella parte configurazione quindi device configuration questo t 55 e sotto gestione locale con associazione al cloud quindi local management con associazione al cloud per log report istica il che implica che nella parte di monitor sotto device io possa relativamente alla query temporale della retention del dato che ripeto nel caso di una basic security di un giorno nel caso della total security di 30 giorni e da qui una riferimento come dicevo prima anche alla standard support la standard support da ieri prevede che i firewall possano essere gestiti dal cloud ma senza parte di log report istica quindi esclusivamente per la parte di maintenance che di cui a breve parleremo e per la parte di gestione di configurazione ok quindi non potranno avere la parte di retention del dato quindi ci sono zero giorni associati ai firebox in standard support ok mentre la retention del dato quindi lo scavare all'indietro per la basic security di un giorno per la total security di 30 giorni ok quindi un firebox associato al tenant associato a subscriber di tipo local management prevede la possibilità come ho detto di andare a fare la query temporale fino a un massimo del giorno precedente quindi vedere tutto quello che diciamo la parte di log report istica può mostrare e optare per le operazioni di maintenance quindi sotto configure device in questo caso io trovo la possibilità di sostanzialmente dare un comando di reboot al dispositivo di aggiornare il sistema operativo questo può anche essere fatto in maniera schedulata posizionandomi sotto il tenant principale e cliccando su firmware upgrade qui possa andare diciamo così a optare per gli aggiornamenti schedulabili sui vari device quindi upgrade firmware e implementare una schedulazione oppure andarlo puntualmente ad aggiornare direttamente da qui posso attivare o disattivare la parte di log report istica ovviamente a gennaio con l'arrivo della thread sync posto che già è disponibile ora posso fare in modo che il firewall partecipi al concetto di thread sync assieme all'end point quindi al concetto di xdr vale a dire correlare gli eventi per implementare delle policy di remediation sostanzialmente posso rimuovere il device e posso convertire la gestione locale a gestione cloud badate bene questo lo riprenderemo in diversi concetti quando un firebox gestito localmente viene cambiato in gestione via cloud non può più essere gestito via vsm via web user interface o via command line e la sua gestione verrà replicata dalla configurazione vigente nel watch car cloud quindi si cancella sostanzialmente la configurazione implementata nel vsm e si implementa quella del watch car cloud che sia come vedremo che sia template o che sia puntuale o quello che è ok quindi non c'è tutt'oggi non c'è un porting delle configurazioni quindi bisogna ricostruire la configurazione da campo ok poi faremo le riflessioni opportune su questo quando andremo a presentare la parte relativamente al cloud management ok importante tenere sempre aggiornata ad ogni variazione funzionante il backup image della macchina in maniera tale da poter ripristinare un eventuale sulla macchina stessa ovviamente perché il posizionamento è su questa macchina vi ricordo che il backup image vige sulla stessa macchina quindi non può essere importato da macchina diversa a modello diverso poterlo rimplementare direttamente con l'opzione restore in maniera tale da ripristinare un'eventuale situazione funzionante a fronte invece magari di un bug piuttosto che di un qualcosa di una mal configurazione che magari ha compromesso un determinato funzionamento questo è sicuramente da da prevedere da tenere in considerazione come la classica best practice che andiamo a predicare chiaramente da anni in questi in questi termini quindi ripeto prima opzione di associare un firebox nel cloud al tenant al subscriber che identifica il cliente e la local management per che mantiene log e reportistica quindi alla fine dei conti andiamo a rioptare per la scelta quindi parliamo del local management quindi in questo caso ripetiamo firewall viene annesto al cloud esclusivamente per log e reportistica e operazioni di manutenzione l'altra possibilità prevede di annetterlo al cloud management quindi vi si replica il fatto che in questo caso se vado avanti con la procedura specifica di cui per motivi di tempo vi diciamo risparmio di farla sostanzialmente ma è ben descritta ben collaudata il firewall toglie la configurazione a un premise che ha e viene annessa quella del cloud di cui adesso parleremo ok andiamo a prendere un prodotto gestito via cloud quindi nel mio caso questo t 55 è un altro t 55 che ho in parallelo e che ha la gestione fatta nella modalità firebox cloud management quindi dalla parte della device configuration non ho più il limite specifico del cosa che posso fare tranquillamente come vedete nel senso del device settings posso comunque optare per l'operazione di manutenzione questo chiaramente rimane ma nella parte di device configuration posso andare ad avere tutta la mia configurazione di cui parleremo adesso allora in realtà è opportuno già qua introdurre un vantaggio che si ha nel watch car cloud quello di poter ragionare in termini di configurazione su una configurazione puntuale dell'apparato quindi con tutto quello che adesso andremo ad analizzare oppure una configurazione su template quindi nello stesso menu configure clicco sulla clicco ed evidenzio la parte shared configuration quindi tutto quello che riguarda elementi diversi configurazioni condivise clicco su firebox template e posso andare ad avere a me a fronte dei template sostanzialmente quindi dei set di configurazioni predefinite dove non devo far altro che sottoscrivere il firebox nuovo aggiunto a questo template quindi possono essere applicati a questo template più firebox perché magari le esigenze dei clienti di questi firebox sotto la parte di subscriber device sono comuni quindi hanno lo stesso content scanning hanno lo stesso network blocking e così via ok quindi opto puntualmente oppure opto attraverso dei template ok ritornando alla parte di configurazione quindi sotto device device configuration andiamo un po a vedere sostanzialmente la filosofia della configurazione del modello firebox cloud management quindi come avete ormai è da parecchio che c'è ma come avete sicuramente già acquisito è una filosofia completamente diversa rispetto a quella che ho col vsm con la web user interface non ci sono macro messaggi nel senso che non stiamo rinunciando assolutamente alla configurazione on premise non stiamo rinunciando assolutamente al vsm non è il watch car il management via cloud non è ripeto non è una soluzione che vi impone di migrare tutti i firewall che avete adesso nessuno ripeto nessuno sta dicendo questo è un'opzione una possibilità che vi diamo vi offriamo per magari quei nuovi clienti che hanno necessità centralizzate necessità di semplicità perché come vedremo molte cose sono state rimosse perché magari diciamo la 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 frequenza con cui venivano cambiate era molto molto rara e quindi magari si reputa non 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 necessarie quindi una semplificazione un'aggregazione di menu atta a semplificare determinate casistiche quindi può essere un'arma vincente un doppio approccio per gestire manutenere anche i clienti che avete già scegliendo magari di annettere il far box che quei clienti hanno al cloud nella modalità che preserva il management locale quella che abbiamo visto prima a fronte invece di provare magari per nuova clientela con necessità che magari può essere soddisfatta da template con nuove con i nuovi clienti approcciati in questo modo per esempio allora andiamo ad analizzare la nuova filosofia la parte dei motori di sicurezza è diciamo così aggregata la andiamo ad applicare poi sicuramente la trovaremo ad applicare nelle policy ma la aggreghiamo in precedenza con dei profili specifici quindi il content scanning novità rispetto al vsm è una situazione che prevede la diciamo la parte di unificazione di tutti i motori di scansione quindi l'antivirus l'intelligent av la pt blocker lo spam blocker a secondo ovviamente del licensing con la determinazione che determinano quindi al loro interno motori di scansione tutti questi quattro motori utm hanno la componente di scansione ok e quasi determina la grandezza massima del file quindi in questo profilo specifico che verrà applicato a questo device decido a livello principale decido quali motori di scansione poi ovviamente troverò la profilazione la attivazione nelle varie policy ok quindi questa è la una delle prime novità alla stregua del ragionamento dei motori di scansione abbiamo i motori faccio un salto la parte di motori di content filtering dove sostanzialmente possa andare a diciamo a creare la mia action specifica per quanto riguarda web blocker e per quanto riguarda l'application control quindi metto assieme l'analisi dei contenuti dove non necessariamente sia un aspetto negativo ma serve per controllare serve per rettificare diciamo i contenuti fruibili all'interno della mia realtà quindi profili specifici che racchiudono le categorie è un modo ovviamente di andare a diciamo determinare l'azione specifica vedete che mantiene anche le ultime news relativamente al vsm quindi quello dell'applicazione del warm piuttosto che il bypass della decryption nel momento in cui voglio fare in modo che ragionare il fatto che questa diciamo questo contenuto consentito venga esulato dalla decryption in ambito https l'allow e block classico come action stessa cosa per le categorie di applicazione ok laddove possibile chiaramente quindi content scanning e content filtering vengono macro divisi in profili che poi troveremo come vedremo a breve da associare all'interno delle varie delle varie policy la parte di network blocking e quindi frutto dei motori utm indirizzi p che vanno in block site list nel momento in cui diciamo vengono riconosciuti nella botnet detection vengono diciamo interpretati come mettenti di attacchi intrusion prevention oppure inseriti manualmente come attivazione delle delle liste e ovviamente chiaramente posso andare a poi popolare queste liste come come andremo a vedere la parte dell'exception quindi andare a inserire sostanzialmente delle eccezioni relativamente all'azione della block site list della botnet detection dell'intelligent av quindi ogni qual volta io vado a inserire sostanzialmente per esempio un'eccezione alla decryption https vedete che trovo poi la scelta quindi consento l'azione diciamo di evitare il fatto che questa entry venga sottoposta a decryption encryption https oppure nego direttamente il fatto che venga consentita e così ovviamente per ogni tipo di entratura che vado a inserire sostanzialmente ricordo essere centralizzato la parte di geolocation anche in questo caso ovviamente diviene ad essere sostanzialmente profilabile quindi vado a creare il nome che identifica il profilo per poi poterlo applicare nella policy e la parte di tls decryption quindi con la possibilità di selezionare il certificato nel momento in cui magari voglio applicare una decryption https vi ricordo posso utilizzare il self-signored certificate del firewall oppure inserire una catena di certificate authority interna stile microsoft nel momento in cui abbia l'ambiente tale per poterlo implementare qui c'è un piccolo learn out come funziona l'encryption e qua ci sia il certificato sostanzialmente da poter utilizzare ed eventualmente scaricare e implementare con le con i meccanismi che ben che ben conosciamo relativamente alla parte di policy quindi abbiamo definito i blocchi di servizi da poter andare a inserire da poter andare ad attivare ok diciamo la grossa novità rispetto al vsm che non li troviamo puntuali policy per policy ma li troviamo agglomerati in determinati macro blocchi ok dove comunque c'è la possibilità sempre di poter fare dei profili come abbiamo visto all'interno delle policy questa è una grossa altra grossa novità il meccanismo delle policy prevede la divisione in tre policy first run core policy e last run le core policy sono diciamo le policy che sono abituate ad utilizzare quindi quelle con priorità generale quelle per le quali sostanzialmente io andrò ad applicare il servizio tm quindi nel momento in cui vado ad aggiungere una nuova policy la battezzo come outbound policy quindi policy in uscita e da qua come vedete discriminando se si tratta di traffico http se http https con diciamo le porte di tabili posso andare ad attivare o disattivare l'encryption posso aggiungere traffico ausiliario a questi servizi e poi ritornando alla policy di outbound sotto come vedete trovo l'applicazione dei motori proprio perché ovviamente vi ho detto che li macro definisco all'inizio con i loro profili quindi laddove c'è la profilazione fattibile quindi per la parte di content filtering e per la parte di geolocation ho la possibilità di attivare ovviamente il servizio di scansione source destination con gli alias e così via per quanto riguarda l'alias poi alla fine del webinar vi darò una informazione relativamente all'implementazione che potrebbe facilitare diciamo non completamente ma in maniera parziale la migrazione della configurazione stessa nella parte di advanced poi ho tutte le implementazioni classiche quindi la rivisitazione del NAT piuttosto che lo sticky connection nel caso di multivan cosa che avevo anche nelle policy generali del firewall non avrò qui quindi qua non c'è più il concetto di proxy non avrò tutte quelle elaborazioni dei template proxy relativamente alle content action relativamente agli header e quant'altro quindi in quel caso se si hanno quelle necessità occorre gestire quel firewall nella maniera che ben conoscete quindi quella via vsm o via web user interface questo intendevo per metodologia semplicistica le altre tipi di policy sono le first run e le last run quindi nel momento in cui io vado a crearle per esempio di tipo first run come vedete non ci sono più parte dei servizi ma perché sono policy semplicemente che possono che possono essere previste per una eccezione quindi devono essere lette prima non prevedono l'attivazione dei motori di scansione ma prevedono solo magari una rivisitazione una riprofilazione dei contenuti che possa andare a vedere e vengono applicate vengono lette prima a livello gerarchico rispetto alle core policy alle policy classiche così come le last run invece vengono lette sostanzialmente per ultime quindi matchano laddove non matcha nessun'altra sopra ok? se voglio se mi può aiutare posso allargare la visione delle varie policy con questa nuova struttura mostrando ovviamente le policy di sistema quindi tutte quelle policy che vengono autocrate dal sistema piuttosto che il sistema considera direttamente vedete come il management, come il ping, come la handle packet quindi per avere magari una visione più completa ok? chiaramente tutte quelle automatizzate vengono inserite come first run sostanzialmente quindi vengono lette prima dando loro assoluta priorità proprio perché per la stragrande maggior parte dei casi prevedono appunto delle eccezioni ok? gli alias ecco, l'alias sarà una grossa novità che è prevista al momento a dicembre dove ci sarà la possibilità di importare degli alias provenienti dal file di configurazione xml di un firebox gestito localmente quindi se è vero che non c'è un tool di migrazione totalitario da un firebox gestito localmente quindi via vsm per capirci al firebox cloud è altrettanto vero che questo sarà parzialmente disponibile relativamente alla possibilità di importare gli alias che verrà prevista a dicembre all'interno del watchcard cloud quindi quantomeno io mi trovo gli alias overi protagonisti delle mie policy di una configurazione realizzata con i metodi classici all'interno di una configurazione che andrò a realizzare attraverso il cloud management quindi ripeto a patto che io non venga smentito per ritardi a dicembre, nella prima settimana di dicembre sarà possibile avere questa funzionalità relativamente agli alias con un bel import qui e la possibilità quindi di prevedere appunto gli alias derivanti estrapolabili da un file xml ci sarà una certa procedura a corredo per poterli riutilizzare all'interno del cloud gli static NAT quindi previsione come oggetto di andare a implementare gli static NAT per trovarmeli poi disponibili all'interno delle policy come succedeva chiaramente nel vsm quindi con la classica procedura e la classica indicazione relativamente all'ip di appoggio alla porta e quant'altro nel meccanismo di NAT come vedete non è previsto sostanzialmente c'è lo static NAT e poi più avanti c'è il dynamic NAT quindi NAT in ingresso e NAT in uscita se vogliamo riassumere sostanzialmente non è previsto il NAT 1 a 1 perché se correttamente analizzato il riflesso del NAT 1 a 1 può essere realizzato combinando static NAT e dynamic NAT quindi quali servizi permetto di entrare e come viene NATato il pacchetto di uscita che possono essere ovviamente consideranti anche asimmetrici tra virgolette oppure resi simmetrici con una particolare applicazione del dynamic NAT che prevede lo stesso NAT in uscita dell'indirizzo mittente quindi non c'è in previsione di avere il NAT 1 to 1 nella parte di branch office parte vpn generale prevedo le branch office vpn che al momento sono da considerarsi come branch office vpn virtual interface ok e mobile vpn da considerarsi al momento ikv2 ed ssl non verranno implementate come diciamo possiamo andare a vedere qui in questa comodissima knowledge base dove vedrete le configurazioni supportate nel cloud e anche nel vsm le configurazioni che verranno implementate a breve ok e le configurazioni che non verranno implementate quindi come vedete non ci sarà la possibilità di prevedere per quanto riguarda le vpn non ci sarà la possibilità di prevedere la mobile vpn l2tp e la vpn classica ipsec ikv1 ok quindi questo non saranno previste così come tutto quello che riguarda la personalizzazione delle proxy come vi ho detto non sarà prevista l'implementazione nel watch car cloud così come non prevederemo la modalità di configurazione via bridge mode e via drop in mode ok come upcoming avremo ci ritorneremo poi dopo questa è già stata implementata come vi dicevo all'inizio l'importazione degli alias l'access portal il network discovery policy schedule safe search traffic shaping questo il traffic shaping verrà implementato agli inizi del prossimo anno quindi gennaio gennaio è previsto già in roadmap l'implementazione del traffic shaping e del qs non ho ancora una data per quanto riguarda dynamic routing e link aggregation ok quindi vpn da trattare a livello di branch office vpn come le virtual interface quindi mi permette un wizard molto semplice mi permette di prevedere di realizzare una branch office vpn virtual interface o con un diciamo un ulteriore firebox gestito dal cloud oppure come un firebox gestito localmente che questa scelta include anche una third party vpn endpoint quindi una vpn verso terze parti che possono includere cloud esterni possono includere device che supportano la virtual interface o possono includere firebox non inclusi all'interno del watchcard cloud quindi il wizard poi mi va a costruire questa vpn così come le mobile vpn quindi iqv2 con il supporto e la configurazione e ssl con le classiche configurazioni da andare a prevedere e implementare ok la parte di network anche qui semplificata quindi il flusso è molto semplice nel senso che vado a realizzare delle network quindi come entità logiche qui vedete ho realizzato un external e un internal dove alla sua realizzazione per esempio andiamo a prendere un'altra internal la posso chiamare rete tecnici dove darò una classe di indirizzi eventualmente implementerò le vlan e andrò a definire quali porte ne fanno parte allora in questo caso giusto per trovare proprio un esempio pratico nessuna delle porte è per me configurabile semplicemente perché all'inizio io ho già previsto all'inizio la situazione parte come un bridge che accomuna tutte queste quattro porte quindi la situazione di default del template di base prevede che nella parte di network la parte internal ok sia la rete che prevede tutte queste quattro porte in bridge fra di loro per poterne utilizzare una e liberarla tra virgolette per le altre network devo configurarla come no traffic così facendo me la ritroverò disponibile poi negli altri nelle altre network come porta attribuibile alle altre network e posso andare poi ovviamente anche a inserirli ad attivargli le vlan direttamente nella configurazione quindi per capirci se io qua per esempio tolgo il network su questa quattro ok come vedete ho un deployment non diciamo così non ancora attivo perché devo andarlo ad applicare ma di questo parleremo dopo vado a creare un'altra network tipo internal e mi trovo disponibile la porta quattro perché l'ho liberata da prima a quel punto se voglio attivargli le vlan attivo le vlan e ho la possibilità poi di andare a dire che normalmente sarebbe untagged questo vlan id se lo attivo ma posso andare eventualmente anche a specificare il tag vlan per questa specifica porta ok quindi quale deve poi essere trasportato sostanzialmente ok quindi molto semplificato rispetto alla alla gestione classica dns gestione dns classica con dns pubblici dns interni e dns watch quindi che qua prevede semplicemente la forzatura del dns watch quindi non vi dà modo di avere le altre opzioni che si avevano invece all'interno del tanto comunque può essere adattate in maniera uguale così come le tabelle di routing scusate le rotte statiche che esistono chiaramente riguardano i pv4 e pv6 con la classe di indirizzi di destinazione il gateway da interpellare e la propria metrica ok dynamic NAT quindi NAT in uscita qua ovviamente esattamente come nel vsm ritroviamo le tre classi rfc non routabili verso internet che possono essere diciamo riconfigurate riviste rettificate a seconda delle proprie esigenze la parte di autenticazione mi propone di poter andare a implementare dei domini di autenticazione che io posso anche andare a applicare preventivamente sempre nella parte shared configuration proprio perché questi domini possono essere presi in carico sia dagli access point che dai firebox quindi possono essere condivisi per esempio in authentication domain posso avere più domini la cui natura può essere correlata ad un active directory o a un radius per la parte di autenticazione quindi lato firebox chiaramente posso avere ritornando alla parte di configurazione la possibilità di andare ad aggiungere un dominio e ovviamente mi trovo fra quelli predefiniti che ho configurato prima a seconda se voglio implementarli come radius quindi questo era propriamente un radius piuttosto che questo era anche configurato come active directory oppure come radius stesso è supportata da poco la parte di single sign-on quindi dopo l'associazione a questo firebox di questo dominio di autenticazione e ovviamente dominio di autenticazione che può anche essere diciamo gestito senza terze parti domain terze parti database quindi con il firebox db con utenti e gruppi posso andare a implementare appunto il single sign-on attivandolo e andandolo a configurare ok quindi la funzionalità che c'era prima relativamente all'autenticazione con active directory e con radius viene preservata adesso anche con l'attivazione su base single sign-on quindi tutta la parte relativamente alla database e per la stragrande maggior parte delle casistiche è assolutamente coperta relativamente all'autenticazione appunto settaggi generali quindi il time zone la parte di log server quindi l'associazione ad un dimension piuttosto che ad un syslog la parte della integration technology quindi qua abbiamo inserito già le diciamo due sostanziali integrazioni presenti come tra virgolette auto auto incluse quindi autotask piuttosto che con netwise per la gestione della parte PCA per l'automatizzazione di diciamo dei servizi di ticketing con l'opzione direttamente della configurazione che può essere diciamo qua già pronta all'uso ovviamente con la relativa guida che si apre in una pagina automatica all'integration guide ok certificati quindi i certificati a bordo anche qui è stata aperta la funzionalità posso aggiungere un certificato come potevo fare già da prima sul Firebox per poterlo utilizzare come web certificate quindi bpn certificato interno per evitare l'errore durante l'autenticazione nel portale 4100 e così via e per le vpn eventualmente ok quindi esattamente come potevo fare come potevo fare prima allora tutte le variazioni di configurazione che io apporto che siano esse vigenti su una configurazione puntuale piuttosto che lato template mi rimandano ad una non applicazione immediata ma mi rimandano ad una link dagli undeployment changes quindi questo link che appare direttamente qua sotto mi porta allo schedule deployment dove io posso decidere direttamente se deployare il cambiamento di configurazione ora quindi deploy change now oppure schedule deployment andarlo a schedulare e applicarlo quando magari diciamo il carico di rete non prevede tanta pesantezza quindi non rischio nulla dal punto di vista operativo lato invece template ritorniamo sui farbox template apportiamo ad esempio una modifica per esempio che ne so andiamo ad aggiungere una action relativamente alla geolocation come vedete anche in questo caso quindi mi porta il link e anche qui posso implementare il deploy però se prima di fare questo vado nel deployment history vedo relativamente a questo tenant vedo la possibilità di vedere i pending change riannullare la modifica fatta in questo template oppure andarlo a schedulare esattamente come ho fatto prima quindi mi dà una flessibilità totale come anche come controllo di errore come avere la certezza di fare le cose fatte correttamente storia dei deployment che poi mi apparirà qui come crono storia di tutti i cambiamenti fatti ecco sostanzialmente a chiusura del cerchio vi dicevo che ci saranno appunto delle novità le ricapitoliamo a dicembre ci sarà la possibilità di trovare l'importazione degli alias nella configurazione quindi nel menu device configuration alias avremo qui la possibilità di importare degli alias derivanti da configurazione via vsm questo previsione per dicembre ieri dovrebbe al 99% essere già partita la possibilità di annettere al firebox cloud dei firebox in standard support ma esclusivamente per la gestione quindi no log no reportistica e a gennaio il prossimo step già inserito in roadmap sarà quello di avere dei template per il traffic management da andare ad applicare nelle policy ok quindi data di uscita gennaio 2023 io con questo ho concluso apriamo il ventaglio delle domande risposte quindi vedo che ce n'è un bel po' e andiamo a leggerle assieme allora giudizio giudizio ci chiede se ci sarà se in previsione l'implementazione del traffic management beh abbiamo praticamente appena risposto sì è in roadmap prevista ripetiamo prevista per gennaio giudizio giudizio ci chiede se si possono estendere i 30 giorni di log sì ci sono delle licenze di retention del dato che vanno a blocchi mensili che possono quindi aumentare il singolo giorno il singolo mese già presenti di default nella basic security e nella total security quindi ripeto tramite delle licenze che si chiamano retention license o la possibilità di allungare la retention del dato risponda Simone la configurazione in toto non sarà mai possibile importarla quindi non ci sarà la possibilità di importare un total migration path per la vecchia il vecchio firebox o quantomeno non vecchio firebox i firebox gestiti localmente via vsm via web all'interno della piattaforma cloud ci sarà ripeto a dicembre la possibilità di portare degli alias estrapolandoli dalla configurazione quindi questo è il massimo che si può fare vedo qua un po' di informazioni che mi dicono che non si sentiva bene spero che il problema sia rientrato allora parise ci scrive se resettiamo il firewall all'impostazione di fabbrica lo possiamo gestire localmente visto che non possiamo tornare indietro temo di non aver capito bene la domanda ma la riqualifico se un firewall è gestito attraverso il cloud quindi è verde come lo vedete adesso è esclusivamente gestibile dal watch car cloud perché annesso perché l'avete scelto voi al massimo ci posso entrare via web user interface per aggiornare il sistema operativo localmente no vsm no gestione totale via web user interface se si dovesse sganciare dal cloud per mancanza di internet o qualsiasi altro situazione allora e solo allora diventa gestibile localmente ok quindi spero di aver risposto a parise no anche la command line rispondo a Dario è preclusa dalla lettura della configurazione via ssh se l'apparato gestito via watch car cloud Stefano ci chiede buongiorno Gianluca è in previsione l'introduzione di una co-gestione cloud web guide no riagganciandomi alla risposta di prima è o l'uno o l'altro diciamo il mix può essere limitato per la web user interface quando il firewall è gestito da cloud solo ed esclusivamente per l'aggiornamento del sistema quindi sarà una pagina molto molto ristretta via web Andrea ci chiede cosa succede se un firewall in controllo cloud va offline ho risposto prima il firewall diventa gestibile localmente quindi se si sgancia dal cloud allora e solo allora lo posso gestire localmente Gustavo ci dice se non ricordo male questa configurazione esclude l'utilizzo di outpoint per vpn sì esatto perché per poter implementare il firebox nelle vpn la gestione la configurazione sostanzialmente deve essere di tipo local local management Stefano ci chiede se il backup image è su firewall e dopo aggiornamento non risulta raggiungibile come faccio ad esportare un backup image dalla gestione il backup image viene fatto prima si consiglia di farlo prima rispetto ad un aggiornamento quindi non è mai successivo io prima di aggiornare il senso logico e prima di aggiornare faccio un backup image quindi quel backup image è sicuramente presente nel cloud perché è fatto partendo da una situazione funzionante ok vedo che non ci sono più domande anzi non è riapparsa un'altra scuote altre due sempre Stefano sì ma poi come mi collego per fare il restore beh se è sganciato dal cloud ti puoi collegare localmente quindi localmente puoi ritornare a fare quello che vuoi quindi collegarti anche via console via clip assolutamente quindi tu parti da una situazione dove l'apparato in cloud a giorni si presenta un problema preventivamente però tu hai il backup image già storato nel cloud per mille motivi si sgancia dal cloud e ritorni ad avere l'accesso locale come detto in precedenza quindi puoi ripristinare la situazione di aggancio del cloud non vedo non vedo problemi Giulio ci chiede non mi torna quanto dice hai detto che si collega dal cloud hai detto che se si collega dal cloud si può gestire localmente in realtà credo che la domanda era diversa ovvero se il farbox perde internet si può gestire localmente a me risulta di no perché fa riconfigurare l'external mi accerterò ma sono abbastanza sicuro che se il firewall non è nel cloud lo puoi tranquillamente gestire in maniera locale questo è un dato di fatto si risponde Daniele che è entrato in ritardo si abbiamo registrato il webinar quindi nel momento in cui lo uploaderò lo potrete rivedere sul canale youtube watchcard d'italia ok allora niente io vi ringrazio e vi do appuntamento poi ai prossimi webinar grazie mille e buon appetito a tutti a tutti Grazie a tutti.